Musica Eccola bellissima misteri che sta facendo su ingresso nel ring Dato che quest'oggi si rivedrà contro i Glove Una misteri che ora è di proprietà assicurata di testa Un testa che quindi è riuscito a battere Remo In quel DWF Backlash 2018 proprio ieri notte Grande match e loro fra la fine è stato testa a prevalere grazie alla Power Slam E invece ecco qui l'ingresso di Yves Love Una Yves Love che secondo me si è persa no? Quando ha perso quel titolo non è riuscito più a riconquistarla E' riconquistarlo e si è un po' persa nel nulla, nell'ombra Delle altre divas, come ad esempio Maricosti Anche la stessa Lotti Beh Lotti però posso capirla Magari è più anzianotta, è più grande Quindi posso anche capirla Ma il Blob è tutto, è giovane Ha anche molte carte, ancora molte carte da scoprire Staremo a vedere come si avve, vedrà oggi Si inizia comunque il Blob Contra Misseri Subla, 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 subla da parte Della ragazza di colori Sicuramente il Blob che vuole sicuramente far bella figura Dopo un bellissimo 2017 Può ben dirlo, lei è stata la regina Vero, un buon regno è una diva molto veloce una diva molto veloce molto tecnica allo stesso tempo insomma a buona qualità io credo molto in lei così credo molto con il misericordia che però insomma da quando si è sta con testa dopo aver perso il titolo non ho fatto più nulla di che Ludispress andiamo al match e analisi nel match perché questo è un buon match fino adesso Ludispress è parte di Yves che poi cercare di allontanarla molto brava Randall Skic attenzione alle leve inferiori di della Yves perché veramente è molto brava il misericordia si è brava anche con le leve inferiori però il glove è più piccoletto è più agile quindi può fare ancora più male di quello che potrebbe fare il misericordia infatti il glove qui mi sembra una grande vena il misericordia se ne va via forse ha bisogno di un break infatti un time out se ne è chiamato mentre l'arbero inizia il conteggio per il ring out il misericordia di agire cosa che non ha fatto fino a questo punto del match è riuscito a dire il misericordia di Yves il glove il glove attenzione poi la prende niente a fare brava misericordia di molto intelligente qua la ragazza di testa però molto straordinaria la controffensiva della Yves che non vuole fare brutta figura quest'oggi d'altronde è un match singolo così non li capita molto spesso perciò vuol fare bella figura il vestiti straordinario il glove è già straordinaria e poi va a chiudere e va a chiudere con l'occhio dell'uragano incredibile eh sì Harry can I però poi quando si perde un bicchier d'acqua non riesce a chiudere eh già non riesce a chiudere attenzione il glove viene bloccata il braccio di su la parte della serie sì di una miserie che si sta diventando in mostra dopo due minuti pessimi del duello e poi hip toss però attenzione il glove da parte della ragazza di colore poi bravissima il glove bravissima straordinaria non ho parole però attenzione perché la prossima settimana avremo un mare costi controci no prossima settimana scusate tra tre giorni se ce ne dovesse difendere il titolo il glove se dovesse vincere oggi potrebbe addirittura chiedere un match titolato il glove tenta il suo la sua hip love di DT il glove poi qui lo dispress tutti i fan sono dalla parte stranamente di di misteri però forse siccome misteri non sembra che c'è misteri sembra che ce l'abbia da un suo ragazzo però qui il glove può soltanto fallire qui il glove non può non può vincere misteri lipofate è finita il suo braccio scusate il flying elbow smash modificato deve chiudere il match deve chiudere il match sbaglia però qui il round of skik misteri vuole reagire in qualche modo ma attenzione dispress ancora una volta della ibs è finita qua è finita la raffina dei bugni misteri forse sta pezzata a testa dice eh forse era meglio era meglio che testa io ricerrei da parte della ibs che dove va adesso sta prendendo troppo tempo eh eh sì infatti mi serve tutto il tempo per rivestinare la prova salute attenzione il glove ancora va a colpire sulla nuca eh ottima un'ora ottima un'ora per la pulizia la strada verso la sua lab di riti o magari il suo calcio speciale staremo a vedere attenzione il glove ancora questa from necklock da parte del ragazzo di colore che va ancora con lo dispress insomma misteri non riesce ad eseguire nessuna manovra eh no e qui il glove potrebbe chiudere il match e infatti eccola qui neckbreaker neckbreaker uuuu l'ha spezzata che che botta che botta che ha ricevuto misteri il calcio sbagli misteri sbagli sbagli non è psicologicamente nel match forse non voleva che abeclash vincese testa non lo voleva non lo voleva non lo voleva non lo voleva insomma queste sono le conseguenze di tutto lo sappiamo ipdos della miserie il blog sta subendo il blog clamorosamente sta subendo un match che dura ormai da 6 minuti e mezzo e insomma il blog vedete Stanley Monsault e vuole chiudere non ci voglio credere vuole chiudere il blog mi sembra a terra 1 2 e 3 incredibile il blog con il suo Stanley Monsault fa chiudere un match stradominato da scusate no misteri fa chiudere un match stradominato dai blog e questa è clamorosa e forse con la diciamo che in abilità adesso mi sembra molto meglio di blog però diciamo che il match è stato dominato dalla ebbè eh già attenzione che sta arrivando è testa è testa ma se il misterio sta fungendo misterio ha paura incredibile incredibile cosa questo significa cosa cosa succedere next Grazie a tutti.